Liberiamo la stanza. Dobbiamo far spazio a nuove soluzioni per il reparto notte. Un'occasione unica da Florenzi Casa. Tutta la zona notte in pronta consegna con sconti fino al 50% per rinnovo mostra. La camera da letto diventa personale grazie ai progetti del nostro architetto e dei nostri arredatori. 50% di risparmio con Liberiamo la stanza. E ti lasciamo i soldi per andare in vacanza. Florenzi Casa. Arreda le tue idee.